Eh sì, sono 25 anni che stabilisce un poco il cocorum, però sono ben oltre 25 anni che operiamo nel settore. A pensare che io personalmente avevo 15 anni, quindi un bambino nelle nostre prime armi, però poi dopo tanti anni è arrivato questo riconoscimento dalla parte della FIC, e anche se noi apparteniamo insomma anche all'associazione Cuochi di Salerno, però a livello nazionale noi siamo gestiti dalla FIC. Allora facciamo capire l'importanza di questo riconoscimento, l'avete ricevuto qualche giorno fa a Roma, in Campidoglio, ecco questa importante cerimonia, ma spiegiamo un po' per chi non è proprio del settore quanto è importante. È importante perché è un traguardo per noi portare queste insegne della federazione. Prima lo stare uniti, tutti quanti ci si confronta, ci si vede su quello che si fa, e poi comunque la consegna di un premio al Campidoglio è importante. Eravamo circa 250 di tutta Italia e c'erano anche dei rappresentanti italiani della Germania che hanno avuto questo premio. È stata una grande emozione, specialmente per il posto dove ci trovavamo. Un degno riconoscimento del lavoro che voi svolgete da tanto tempo, oltre 25 anni proprio per diffondere quella che è una vera ricchezza, risurda del nostro territorio. Parliamo della dieta mediterranea, la vostra è una missione professore? Eh sì, questa missione che cerchiamo di portare avanti nel nostro migliore possibile, insomma, così cerchiamo anche di divulgare ai nostri alunni la dieta mediterranea portata da Ansel Keys qua nel Cilento. E noi con questo riconoscimento, insomma, portiamo questo riconoscimento nel senso anche a scuola per dar sì che anche i ragazzi un giorno arriveranno anche loro a questo bellissimo traguardo. Ma quando avete iniziato, tanti anni fa, professore, immaginalate voi che questo percorso, non solo del lavorativo ma anche di vita, potesse raggiungere simili risultati? No, diciamo che da giovane non si guarda tanto in avanti, guardavamo più che altro alla passione che era questo lavoro, questo mestiere, perché è un mestiere che si può fare solo con la passione. E poi, passando i tempi, siamo innamorati di questo, specialmente della dieta mediterranea. E a Marico dobbiamo dire che non esiste più nel Cilento la dieta mediterranea, specialmente nelle case dei cilentani. Allora, intanto per i giovani cuochi, per chi inizia oggi, qual è il suggerimento che vogliamo dare? Allora, il suggerimento è amare questo lavoro. Se si ama dall'inizio, si porta avanti fino alla fine. La cucina di una volta riporta un po' di gioventù, insomma, come diceva Ansel Keys, insomma, ti fa vivere cent'anni. Il messaggio che do ai giovani cuochi di cent'anni è quello di studiare, perché la formazione è importantissima nella vita, anche in questo, principalmente in questo mestiere. Noi siamo a contatto con tante culture, con alimenti, e quindi la cosa più importante è quella di avere una formazione molto alta. E anche perché chi più titoli ha è più avanti nella vita di oggi. Grazie.